Si giocherà domenica alle ore 18 al Marcantonio Bentegodi di Verona. La gara contro il Chievo valevole per il terzo turno eliminatorio di Coppa Italia Team. Un nuovo probante test per la squadra di Giuseppe Pillon dopo la sofferta vittoria con il Pordenone. La sfida con i Friulani ha messo in vetrina ancora un pescara sperimentale lontano dalla migliore condizione. Da rivedere la difesa con Gravion e Scognamiglio apparsi a tratti in difficoltà al cospetto degli avanti neroverdi. Ma più in generale resta da rivedere nel complesso la fase difensiva considerando comunque anche le assenze dei vari perrotta Elizalde Campagnaro e Del Grosso. A centrocampo già in buona forma Gaston Brugman che resterà a pescara ancora indietro di condizione Memuschai e Macin. Luce d'ombre per l'attacco con l'ex romanista Antonucci che ha mostrato personalità e buone giocate ma anche qualche errore nei disimpegni. Prova positiva per Mancuso e a fasi alterne per Andrea Cocco che nonostante il gol segnato nella gara di domenica sera all'Adriatico è dato sempre in partenza. Sulla punta c'è infatti l'interessamento del Vicenza. Ile Pescara poi in caso di partenza dell'avanti di origine sarda potrebbe poi puntare sul 35enne Nenè svincolatosi dal Bari. In partenza restano anche i centrocampisti Ransford Selasi e Mattia Proietti, il difensore Michele Fornasier, la punta Luca Forte e l'esterno d'attacco Kevin Yamga. Nelle prossime ore dovrebbero poi arrivare in città Capone e Melegoni che dopo una breve vacanza seguita alle fatiche con l'Under-19 si metteranno a disposizione della squadra. Intanto giovedì pomeriggio i biancazzurri torneranno di nuovo in campo al Rubens Fadini per affrontare in amichevole il Giulianova del presidente Bartolini.